Allora, come prendere uno degli Skylander più forti che ho mai giocato? Fire in the hole! Sono cannolo? Vabbè, ho forza di scendere e di aprire la mia strada Fai il giro tuo Dove si userà? Che stupido Su quello? Vado a prenderlo Ci arrivo Vado a prenderlo Guardiamo Yuhuuu Da apocalisse Ops Che cavolo? No va bene, non so Però ti ho fregato il soldo Uuuuuh, guarda cosa c'è qua Aspetta allora, vorrei salire che raccolgo un po' di soldini Ehm Che cavolo? Vabbè dai Ho perso niente Sono sparito Eh, ok Allora, di qua c'è qualcosa che non sappiamo bene qua Vabbè qua c'è il pacco, quando finisce di scendere da continuare a sparargli Allora devi si salta Oh, perché si prende anche il fuoco Ehm Vabbè dai Ottimo Finiamo di guardare dietro Sì, sì Tutto io... Fingi 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 Sì Era proprio quello che stavo pensando Mi piace la mia potenza Bomba, passa, prendi i soldi Lancio alto Ci sono ancora? Ehm Sì No, dai Eh no, serve Devi arrivare la bomba per Per Tirare la bomba sull'ultimo cannone No, aspetta Dobbiamo andare... Non lo so Non so se ti c'è una bomba la vado a prendere Sì Sì Ma come on Se si tratta di fare così Sì Se no non ci arriva mica l'ultimo cannone Ah, perché si è passata questo buco? No No, c'era una murata Anzi, se avessi un'altra bomba No, che serve? Qua Eh, non ci passava mica niente Ah no, c'è un passaggio C'è un gemmione, soldi Ehm Come cavolo... Cosa ci siamo persi qua, cannone? Vai lì Cagnone, cannone, cannone Tic Ok, prendiamo prima il regalo Poi andiamo a prendere... La bomba che ci manca allora Arriva alla bomba Che comunque sono soglia Che scoppia la bomba C'è un bomba C'è un caccia di via C'ho così fatica a fare Cos'è questa roba bellissima? Pacca Il sistema solare Cappello atomo P25 di colpo che... C'è che c'è 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 Vabbè erano soldi dai, non hai perso niente Vieni subito qua che ti picchio Vieni sfidiamocelo colpo di spada Dai Dove fai vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua Dove facciamo un'arena così facciamo il vero Alla cosa della mossa Massa finale Facciamo felici nosti fans Non so mi hanno appena spizzato Mi vorrebbero vederti strozzato Oh dai non è che hai perso tanto uomo Facci dei soldi Non si perde dei soldi No, capito Ammetti di tirare i colpi Un piscato Se non è che hai perso un capitano Ah, soldi soldi Siamo facciamo la roba qua io Vuoi fare xx fond Io faccio xx morto No, e non puoi far morire niente uno dei Proprio per dire pokemon più fondi e i schallender più forti E metti su un po' pizzo uno dei più simpatici Esatto Sei in azione Tempestati di bombe mentre Qui mi sa che dobbiamo cambiare un po' di schede Secondo me occhio Eh si può esso Tu sei morto, io sono già morto Tu sei quasi morto Quindi sono proprio morto Però a pari i colpi dei cecchi Ma io adesso facciamo che Facciamo arte A me ti assi vincere facile ragazza Io di fatto della fatica non ne ho voglia Non è che poi dici che alcuni sono tutti uguali Si E decisamente no Eh ma lei è risposta Eh che gli altri Ah comunque lei Cioè Ma perchè fai morire più forte? Cioè hai fatto morire più forte Cioè hai fatto morire più forte Ah ecco proprio Fai morire qualche gigante Giusto ci mancava Cioè eh non è che fosse apposta a farli morire Ah non lo so eh Sto facendo delle domande Eh guarda dove respawno Spawno se Ah ma c'è anche un cecchieno Ah ma c'è anche un cecchieno Però fai sotto quello che morire Ma è perchè stai giocando quello però vabbè Ma quello che si sta ingruppando la... La cosa? Il portone È rimasto bloccato nel portone Cosa lasciarlo stare? Non andare a scastrarlo Cioè no vabbè ma quanti danni fanno? Ha scivolato Non l'avevo mai visto morire Pau sera bellissimo Stavo sparando i pugnoni Non è giusto No non mi hai fatto vedere i pugnoni No gli ho fatto vedere Cioè ho riuscito a sparare Non ero più troppo concentrato Mi rimane anche fatto livellato Eh che sfiga Poi è partita la mossa combinata e... Mi sono dovuto arrendere tutto il poco Poi ho potuto mettere in pausa per le morti Dammi qualcosa di giocabile qua Finiamo di usare anche questo No non serve a me, mi è finito Continua a sparare Ah vabbè sono partito bene Mi hanno detto Mi sono ritrovato in mezzo dei call Fanno un delirio di dare Ah c'è il cecchino da qualche parte Ebbene Ah non ha tantissima vita Ma c'è No non le si chiari Paragli No non le si chiari E' una strana abilità storica 400 per i maghetti e tutto fai un po' più un po' di bonus per l'attività noi ora si sceglierò poi dopo torno a destra allora si di qua non c'era mica niente quella che cavolo questa è una robopalla che veniva usata nello sport omonimo robopalla era molto popolare nella società air canyon ma finì per essere bandita tu però puoi giocarci se vuoi ah sai che devi schiacciare quell'occhio dai fammi un passaggio fammi subito un passaggio che mi foco vai leo eh però dall'altro lato se ne hai fotato male però se ne hai fotato molissimo via direi che buona per luce di cinese perfetto non mi abbandona mi sa perché era bandita mentre giocavano prendevano 100 di vita ogni colpa ogni tocco di palce come la toccavano di prima non la controllavano molto allora la bisogna risalire da dove? da qua direi così cioè poi io aspetterei a spingerli tutti e due andiamo parliamone un attimo andiamo un attimo guardate adesso ci sono due forse ci sono due forse ci sono due forse fa ricadere e verrà promosso al rango di assistente oliatore di terza classe buona fortuna Glamshanks ma poi deve andare giù si bisogna portarsi dietro la palla ah si la palla ah ecco perché dovevamo tirare giù ci sono la palla no mica sono i livelli dove devi portarci sul palla ok questo non dovevamo farlo allora prima buttiamola giù e riapriamola ok vai avanti basta che non la premiamo in due ok ah uno deve andare prima quello vedo? si è però tu uno sta lì sopra quando si alza ah ecco bella ci sta oggetto vacca che vuole giustamente oggetto ehm cavolo cavolo sarebbe servita qua eh hai detto che c'è vieni via magari perchè devi andare la proprio davanti alla uh ho fatto fuori in giacchia ehm c'è il sacchettatore di dove è il maivo? era dietro io sono incertato qua togliami il dietro dai affrontiamoli in un territorio ehm possiamo morire si allora possiamo morire male vuoi dire ci è passato e io ci sto provando ah c'è io no? maledetto mago non muori oh ok vabbè una volta cresciuti rimangono cresciuti ehm faccio bad news perchè pure faccio con i soldi gli altri sono morti ok suggeriscono una riportata strategica di nuovo nel buco che porta la morte no adesso so spariamo da qua fin da tempestarle però calcio non volevano due d'acqua che sparavano facevamo doppio bonus perchè sei arrivato te? cioè non poteva scattare un attimo ah ok ah 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 ma sono tolto metà vita ah ma sono tolto metà vita ancora forte il grunt eh non devasti qua si sa 42-28 non basta non so secondo vita non devasti non devasti ah beh guarda quanto andai già l'esercizio di soldini sta qui mi ispiravo 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 aspetta che mi ispiravo vediamo se effettivamente ispiravo questo però è già andato si è rimasto solo quello d'erba non è che è morto pure lui no eh no no sono sicuro che vabbè no 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 era sicurante comunque no ma maledizione mi ha usato leo uff ma sono morto tu storia quello hai ucciso prima invece no ho ucciso basta prima l'uomo l'uomo è vivo uno dei cittadini un minuto no valla è vero ah è vero ah è vero c'è ragione non ho detto che è vivo messo bene è vista che mi ispiravo ma chi è tia chi è tia 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 allora la signora ahahah 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 che ridere che simpatico amorista ultimo quando fa da solo mettiamo giù un po' di tesori no mettere qui a me non ne rimane niente io uno uno mio uno mio era fai un po' anche di quelli che si può mettere a qualcosa quando usciamo anche crash no crash si chiamiamo lo crash che è la prossima volta che ci serve un gigante ce lo giochiamo insomma ah lo so dammi il tempo cosa è rimasto nella scatolina qua c'è un po' si è fatta una moria di Skylander per mano di chissà chi beh devo dire che è rimasto un personaggio di un certo e basta? si dai usalo cavolo no non mettiamone due della stessa elemento insieme voilà che se muoiono insieme dai allora prendi lui dai grande massiccio il tipo è violento pronto servito dopo 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 abbiamo un bel enigma da affrontare dai lui dice porta conduce vabbè conduce ancora allora c'è un po' troppo roba da fare occhio qui si va avanti no chiuso meno questo allora quel pulsantone lì mi sa che fa scendere questa barra qua di qua no ho avuto i soldi saluto l'euro che da gli soldi per esempio saluto l'euro con gli soldi il prossimo star nudo si è licenziato grande forza forza attenzione i miei fedeli serviti ok domani inizieremo la conquista remando andate letto presto il mio piano non era questo ti assicuro che non doveva andare così scatto scatto ok spingelo giù spingelo giù spingelo giù ah no di qua aspetta eh se devi spingerlo ma non ti spingerlo però guarda una seconda se non mi capire qua ok ah devo spingerlo? si eh di là forse si aspetta che bene attivare cose se non capisco cosa dobbia fare che devo anche dare camera devi ributtarlo giù devi ributtarlo giù così puoi spostare con lui vai ok così va bene e poi devi venire dove sei tu ok e questo è uno ah no ah a mezzo ok e quest'altra invece si passa da qui ok non sono per carità così che c'è un boss sembra che è stato easy sì è fatto ora puoi entrare nel grande palazzo imperiale ma ti avviso che io che vi sia entrato non è più uscito grazie forse è meglio se si riporta su barnave così puoi prepararlo tipo ah beh c'è la permanenza andiamo già finito c'è l'ultimissimo capito qui sarei pronto ok però andiamo comunque verso quello sì per uscire sì infatti siamo entrati nel palazzo beh dai però dai sono tanti bravi abbiamo perso le forzieri che non ci servivano tre aree però abbiamo perso quelle con le forzieri però l'importante è aver trovato la ruota lo zaffiro il tesoro la gemma eccetera 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 allora torniamo sulla nave vediamo un po' che cosa dice il capitano Flint credo ci sarà un breve dialogo tutto merito suo ovviamente sì adesso diranno cosa del genere ottimo lavoro skylander caos deve essere in quel palazzo beh che spazio andiamo a stanarlo per voi giovani è tutta la cosa è proprio questo che vogliono le nuvole di precipitata testa bassa senza pensare alle conseguenze e ad un tratto ma perchè c'era tanto con nuvole oh so a me non sono controllo dell'allenale tutt'altro però ho visto veramente male è solo che fermare caos non sarà facile vai pure quando sei pronto skylander bene siamo pronti a chiudere definitivamente la storia con l'ultimo capitolo nel quale andremo ad affrontare caos sul solo bottone pittiamo la sangue caos e quindi ci salutiamo e corriamo subito a registrare il prossimo che non vediamo l'ora di vedere come va a finire assolutamente sì ciao a tutti grazie a tutti